Ma semplicissimo, la richiesta va fatta presentando un'istanza sul sito online www.passaporteonline.polizialistato.it e diciamo una procedura prettamente online dove il cittadino prenota la sua richiesta, riceverà una data, un appuntamento con un orario specifico. Quattro sportelli attivi, almeno cinque giorni su sette, personale al lavoro la mattina per ricevere il pubblico, il pomeriggio per evadere le tantissime pratiche, l'ufficio passaporti della questura di Brindisi e tre più efficienti della regione Puglia. Le richieste sono triplicate dopo la pandemia e in seguito alla Brexit, come era prevedibile, anche per questo presto gli sportelli passeranno da quattro a cinque. In linea di massima noi valutiamo tutte le urgenze, alcune hanno delle priorità, motivi di lavoro o anche motivi di salute, però noi valutiamo anche i casi in cui ci sia un'esigenza per motivi di turismo, ripeto, anche per consentire a tutti la libertà di poter circolare tranquillamente. Per cui in una semplice PEC il cittadino può richiedere anche un anticipo all'ufficio passaporti che verrà valutato e certamente accordato. Nei limiti del possibile per ricostruire, i tempi quali sono eventualmente? Quindi se io oggi facessi richieste attraverso il sito internet, entro quanto tempo potrei avere il mio passaporto? No, il nostro sistema è un sistema aperto. Noi diamo la possibilità, come questo Brindisi, a tutti di potersi prenotare. La piattaforma informatica dove la persona si prenota può darti un appuntamento nello stesso mese di giugno oppure luglio. Ci sono delle caselle libere e il cittadino va ad occupare quelle caselle sulla piattaforma informatica.